Saranno 800 bambini delle scuole elementari dell'Aquila i protagonisti della festa della rinascita il 6 dicembre prossimo, a quattro mesi dal decimo anniversario del sisma. Una festa che vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che presenzierà alla cerimonia della riapertura della chiesa di Santa Maria del Suffragio, meglio conosciuta come le Anime Sante. Il luogo sacro nel cuore del centro, gravemente danneggiato dal terremoto del 6 aprile, è divenuto uno dei simboli della tragedia, è tornato a nuova vita grazie a un finanziamento dei governi italiano e francese. Il Capo dello Stato sarà l'Aquila assieme ad una delegazione del Governo francese, guidata dal Ministro dell'Istruzione Nazionale e della Gioventù e dall'Ambasciatore francese in Italia. In Piazza Duomo sono attesi gli alunni nati nel 2009 e nel 2010, una presenza voluta dal Comitato Organizzatore della Chiesa di Santa Maria del Suffragio come reale segno di fecondità e speranza nel futuro, con bambini nati nell'anno del sisma in quello successivo, che rappresentano appunto la generazione della rinascita. Non a caso Mattarella e gli altri illustri rappresentanti delle istituzioni, tra cui l'Arcivescovo dell'Aquila, il Cardinale Petrocchi e il Sindaco dell'Aquila saluteranno per primi i piccoli. Per consentire la loro partecipazione il Comitato Organizzatore guidato dal Vice Sindaco Liris ha preso contatti con l'Ufficio Scolastico Territoriale, il quale a sua volta ha interessato le varie direzioni didattiche. I bambini e gli insegnanti confioranno in piazza Duomo con i mezzi pubblici messi a disposizione dal Comune e attenderanno l'arrivo delle autorità. Il consigliere regionale del PD Pierpaolo Petrucci, componente del Comitato, annuncia che i bambini e il pubblico in piazza attraverso i maxischermi assisteranno all'accensione mediante input elettronico inviato dal Ministro dell'Istruzione Nazionale della Gioventù Francese, alla presenza del Presidente Mattarella dell'albero di Natale più grande d'Abruzzo. Il pulsante d'accezione sarà tenuto da una bambina nata alle 3.32 del 6 aprile del 2009. L'albero, disegnato con linee luminose sulla collina della Croce, accesa a proba, frazione del Comune di Monte Reale, centro in posizione sovrastante il versante laziale del territorio di Amatrice e di quello abruzzese dell'Alta Valle dell'Aterno, verrà acceso in segno di fratellanza fra i territori colpiti dai catastrofici sismi del 2009, del 2016, 2017 e fra le loro giovani generazioni, speranza per il futuro. I bambini accompagneranno questo momento con il rilascio di 800 palloncini neri e verdi, macchiando il cielo del centro storico con i colori della città, adottati dopo il sisma del 1703. L'Iris sottolinea che i bambini, con i loro vociari e i loro colori, apporteranno un clima di gioia e potranno a loro volta vivere in prima persona, assieme agli insegnanti e genitori, un momento significativo della storia e della memoria della città.